A fruttato circa 6.000 euro la serata di beneficenza organizzata dal CIRS il 13 giugno scorsa l'ex Herrera Amare in occasione della presentazione del Taormina Film Fest, una serata di gara presentata da Silvana Paratore che ha coniugato divertimento, spettacolo e solidarietà ed ha visto la partecipazione di straordinari ospiti quali l'attrice Claudia Cardinale alla quale è stato conferito il premio alla carriera, Remo Girone, Brando De Sica, Nini Bruschetta e molti altri esponenti del mondo dello spettacolo. Con la cifra ricavata il CIRS attiverà due borse lavoro nel settore cucina e sala della durata di 5 mesi.